Tutto sommato, nonostante il maltempo, il territorio del comune di Teramo ne è uscito abbastanza bene, a parte qualche smottamento e qualche frana. Sì, esattamente. Grossi problemi non ne abbiamo avuti, se non in alcune strade, tra l'altro quelle storiche, in particolare Mezzanotte, sicuramente una delle zone che ha avuto qualche problemino, e anche la famosa strada di Secciola, ma con tutta quell'acqua era inevitabile che si formassero anche di fiumi stradali. Abbiamo avuto circa 12 smottamenti, nella giornata di ieri, soprattutto nel pomeriggio sere e anche questa mattina, siamo intervenuti con l'assessore Cozzi e con le imprese a mettere a posto. Grossi problemi sulla viabilità non ci sono, è chiaro che il problema delle piogge abbondanti non è durante l'evento, durante la pioggia, è nei giorni successivi. Dunque tenete sotto controllo il territorio anche oggi? Sì, perché purtroppo quasi sicuramente cominceremo ad avere delle frane, perché poi accade questo. Un problema importante è anche a Carapollo, dove siamo intervenuti, la Tema è stata costretta a sospendere il servizio, però parliamo anche di un evento straordinario. Il servizio è ripreso oggi? Sì, il servizio è ripreso oggi, parliamo anche di un evento straordinario, d'altra parte ripeto, sono momenti, oramai anche il clima è cambiato, eventi come questo. Un codice rosso io non lo ricordo nella mia carriera di amministratore, quindi il codice rosso è un codice veramente di gravità assoluta. Devo dire che abbiamo ben risposto, la giornata di chiusura delle scuole è stata giusta, mentre stamattina non c'è nessun presupposto perché le scuole dovessero stare chiuse. Oggi faremo, stiamo già lavorando per una verifica dei danni, che poi ovviamente io ribalterò, nel senso che scriverò alla Regione, per capire se su questa situazione c'è intenzione di dare una mano ai comuni per il ripristino dei danni. Però tutto sommato, ripeto come ha detto lei all'inizio, grossi problemi non ci sono stati.